Abbandono, degrado, sciatterie e decrescita del centro storico. Sono queste le preoccupazioni che aleggiano sui pensieri dei consiglieri comunali del centro-destra che questa mattina hanno presentato una serie di proposte per dare una svolta all'area centrale di Pesaro. Diverse le iniziative propositive che si augurano che l'amministrazione tenga conto. Una situazione di impoverimento che continua in questi anni e che sta peggiorando a causa di alcune scelte a nostro avviso sbagliate dell'amministrazione ma soprattutto a una mancanza di una visione d'insieme, di una strategia, di una progettualità che coinvolga tutto il centro storico. La ricetta di questa amministrazione è fatta di regole che sono spesso utili soltanto per legare, per costringere e non per valorizzare, di multe e di segnalazioni su applicazioni. Ecco, noi crediamo che questa sia una ricetta sbagliata che non porta a nessuna parte. Crediamo che serva un vero coinvolgimento degli attori del centro storico che sono i residenti, le persone e che sono chi investe e chi lavora. Proprio per questo oggi abbiamo presentato tutta una serie di iniziative e di proposte concrete per fare in modo che questo centro storico possa ritornare a crescere e a svilupparsi e non a continuare questa serie di degrado che continua in centro. Dai cantieri che attraverso il PNRR, da qui a breve coinvolgeranno il centro storico, come l'ex intendenza, il San Benedetto e Palazzo Ricci, passando per il mercato di San Decenza e il mercato delle erbe. Certezze e garanzia agli esercenti. Questo è quanto chiede e pretende il centrodestra. Per i cantieri chiediamo che venga garantita la possibilità di lavorare per chi già lavora in questi luoghi. Quindi la certezza sulle tempistiche e chiediamo che chi lavora lì non venga trasferito prima della fine di questa stagione estiva, che per loro è fondamentale per portare a pareggio il bilancio di tutto l'anno. e chiediamo che la nuova localizzazione venga condivisa con loro e che sia una localizzazione sia adeguata allo spostamento per loro, ma anche adeguata al fatto che questo, che è il mercato delle erbe, è un servizio ed è un valore aggiunto per il centro storico di Pesaro e quindi una localizzazione che sia adeguata ad entrambi questi due aspetti. Sul tema dei cantieri che ci saranno, speriamo fortunatamente, in centro storico, coinvolgeranno palazzi importanti e di pregio storico e chiediamo che quindi vengano fatte delle coperture che siano all'altezza. Sotto la lente di ingrandimento dell'opposizione ci sono finite anche le differenti forme di degrado che stanno colpendo il centro storico, sulle quali sottolineano la quotidiana presenza di orinatoi a cielo aperto, luoghi di bivacco e un'indecorosa manutenzione. L'interpellanza che abbiamo scritto come centrodestra sicuramente è provocatoria, perché parte dall'assunto che nel nuovo regolamento del decoro ti devi adeguare a certe regole, tra cui ad esempio quella che devi avere la possibilità di tavolini di un certo colore, ombreggianti di un certo colore, fioriere di un certo tipo, oppure se sei un proprietario di un locale, del centro storico e non riesci ad affittarlo, devi mantenerlo in maniera decorosa, altrimenti scattano le multe. Benissimo, se questa è l'idea, perché la stessa multa non viene applicata all'amministrazione comunale, che non è in grado di tenere in maniera decorosa le proprie panchine ad esempio di fronte al Conservatorio Rossini? Fateci un giro, scoprirete che spesso stazionano lì bottiglie di vetro, ci sono scarchi alimentari a terra e l'atteggiamento non è sicuramente quello di un ambiente decoroso. Bene, io mi chiedo, l'amministrazione comunale intenderà multare anche se stessa per questo atteggiamento poco decoroso? Aspetteremo una risposta in aula da parte dell'assessore e vedremo che cosa ci verrà detto.